Tavolo di Wim sempre a toppa che questa notte Ciao Vagel E' tornato in parte il tavolo Candy Candy in parte però Non è proprio al completo Gli amici dell'Outlet di Brugnato dove sono? Le mani al cielo, Joe Stopper! 1, 2, 3, 4 Ci sono anche gli amici della Isha questa notte